Pasqua, io non te l'ho detto ma te lo dico adesso è nato il figlio di Giovanni, guarda qui, ma che assomiglia, che assomiglia, che assomiglia tale e quale proprio, Rocky Balboa dopo l'incontro con Ivan Drago ma come ti permetti, quello era tutto gonfio gonfio, rosso rosso, con il naso schiacciato, gli occhi chiusi eh, come a tutti i bambini appena nati, Carmela era brutto mamma mia Pasqua, tu sei ignorante e non perdi mai il modo di dimostrare al mondo ma invece tu sei acculturato, Carmela, oh lo sai, sei ne accorto tutti i palazzi dici ma com'è culturato la signora Carmela quando declami le poesie contro di me facciati, che ti dico! Pasquale, abbiamo fatto una bellissima diretta, mangiare queste cose, tutti i cugini, tutti i parenti e gli abbiamo cantato batti, batti le mani ah, gliel'avete fatto vedere al bambino tutti qua, bravo, 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 avete fatto bene così non avete posto il problema al bambino di farsi le domande, no? che un bambino nasce e dice come sarà la mia vita, come sarà la mia famiglia invece no, chi l'ha già capito, la famiglia è scema e la vita è merda ma è stata zitta, la mamma di Giovanni sa che ha detto? maronna mi stu creatur, è tale quale a te Gioaa e siccome Gioana tu sei tale quale a me, oh creatur, è tale quale a me e ha ragione, ha ragione perchè la mamma di Giovanni me la ricordo effettivamente ha qualcosa di Sylvester Stallone ma state sitte, è impressionante, è impressionante, guarda qua gli occhi, sono tale quale al padre, neri 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 ma Giovanni c'è l'azzurri azzurri azzurri ma il taglio non il colore, il colore cambia, che c'è? ma chi è? mamma mia, ma tu lo dovevi vedere come si muoveva, come si spatteva e dacca la colletta oh tale quale ha il carattere di Maria ma chi è questa Maria? è la cugina di terzo grado di Giovanni e allora ha il carattere di Gioaaco e chi è? la parentela è più stretta ma state sitte, ma scuola no, dici la verità dici la verità che la dico? che devo dire? mento o dico la verità o mento? il mento, il mento, guarda qua è tale quale che le dà abisnonna abisnonna, Carmela l'avete vista tre secondi a questo bambino e gli avete fatto i denti chitta da che ne vai all'FBI? hm